Per rispondere al caro materie prime causato dalla guerra in Ucraina e in Italia sono stati sbloccati oltre 200.000 ettari di terreni grazie alla pubblicazione del decreto che rende operative le deroga e i regolamenti comunitari sui PAC. Nel nostro paese gli ettari a riposo potrebbero arrivare fino a circa un milione considerando quelli incolti e abbandonati e dunque riammessi nella filiera produttiva. Il Ministero ha evidenziato che questa soluzione punta a contrastare l'aumento dei prezzi delle materie prime e degli impatti su domanda e offerta dei prodotti agricoli causati dalla guerra. Grazie